Salve da Acropalati! Oggi non avendo a disposizione un po' di cose per preparare le collure che di sovente preparo sempre, ho preferito solamente preparare il nostro picellato, vuol dire questo pane, questo pane un po' rustico, almeno io lo faccio rustico così, proprio perché mi piace proprio la tradizione pura, e si mettono le uova. Le uova rappresentano la speranza, in questo periodo la speranza veramente, ce ne vuole veramente tante. Beh, questo si rifà con un impasto tradizionale con lievito madre, quindi pane, lo mettiamo nel burro, solo un po' di olio d'oliva, nell'impasto, e quindi un pane classico, non c'è nulla di più, però è molto saporito, ma quello che è importante è che rappresenta un simbolo importante. In questo periodo è importante anche non alleggerire la nostra restrizione, perché basta poco, credetemi, che ci possiamo trovare un pasticcio, quindi manteniamo ancora, come stiamo mantenendo da 35-40 giorni, è importante ancora resistere, perché, ripeto, il virus non tiene conto niente di religione in questo momento, non tiene nessuno. È un virus veramente di quello blando per certi aspetti, ma veramente furbetto, silenzioso, non si nota, ma esiste. Facciamo attenzione e cerchiamo anche in questi giorni di preservarci e di rispettare tutti i protocolli che ci sono in atto, perché in Cina hanno funzionato e dovrebbero funzionare pure in Italia. A voi tutti una buona settimana santa.